13 maggio 2003. Perché è così importante questa data per noi milanisti? Tribù rossa nera, amici del Marietto, ma soprattutto amiche, vi siete iscritti al canale? Siamo lì tutti pronti con la campanellina accesa ogni volta che esce fuori un video del Marietto? Benissimo, allora continuiamo. Vi dico solo due formazioni, Inter, Toldo, Cordoba, Materazzi, Javier Zanetti, Cannavaro, Conseisau, Cristiano Zanetti, Di Biagio, Emre, Recoba, Crespo, poi ci si ricorderà anche di Martis e Callon. Il Milan, Abbiati, Costa Curta, Nesta, Maldini, Calazze, Gattuso, Pirlo, Sedorf, Rui Costa, Inzaghi, Shevchenko. Questa è stata la partita della vita, è stata davvero una partita che non può non essere ricordata da un milanista, ma anche da un interista, perché è stato veramente il primo match in Europa tra Inter e Milan in Champions League. Una semifinale di Champions che ha deciso poi le sorti di chi andava o meno a Manchester nella finale, nella finalissima. Questa finalissima di Manchester, che vi ricordo sempre, contro la Juventus. Ma facciamo un attimino un passo indietro. Innanzitutto per uno come me, che ha vissuto la Serie B, ha vissuto il quasi fallimento del Milan, poi ha visto il grande Arrigo Sacchi con il Milan più forte della storia, forse la squadra più forte di sempre. Capello, poi c'è stato un intermezzo con i vari Tabarez, Terim, poi c'è stato Zaccheroni. L'epoca di Ancelotti, io credo che è l'epoca più bella per me. Per me è l'epoca più bella del Milan. Non significa che era il Milan più forte, per quanto avevamo tutti i campioni, però è stata l'epoca che ha cambiato veramente le sorti del nostro Milan, tanto che ha fatto innamorare tantissime persone in ogni parte del mondo e tutti i giocatori che passavano da quel Milan, tutti dicevano la stessa cosa. Qui è come stare in famiglia. Ma tornando a noi, a questa partita così decisiva, tutto nacque dall'agosto, quando il Milan passò i preliminari di Champions con lo Slovan Liberet. Non so se vi ricordate, vinciamo 1-0 all'andata e poi 2-1 rischiamo addirittura di non andare ai gironi. Il primo girone ci aveva messo contro Lenz, il Deportivo La Corugna e il Bayern Monaco. Milan lo stracciò e arrivò primo, alla grande. Per non parlare poi che c'era un secondo girone, perché ai tempi la Champions c'erano due gironi, non uno, c'erano due. Una volta che passavi le prime due, il primo girone andavi in un altro girone, che era una sorta di ottavi di finale, quindi era molto più lunga. Real Madrid, Borussia Dortmund e Lokomotiv Mosca facciano parte di quest'altro gruppo, ma per il Milan non ce n'era. Anche lì, primo posto. Dopodiché, quarti di finale, la partita con l'Ajax. La partita con l'Ajax è stata qualcosa che veramente ci ha fatto tremare, fino all'ultimo secondo, 1-0 all'andata, e se non vi ricordate male, un 3-2 ritorno con un gol al 93esimo di Pippo Inzaghi, che la buttò poi dentro Tomasson, che se veramente annullavano quel gol, sicuramente ne avrebbero tagliato la testa quel giorno a John Dan Tomasson. Io ero, in quella partita là, mi ricordo, ero con una mia ex famosa ragazza, nel primo anello blu, dove c'erano i commando stigre. C'era gente già che se ne era alzata, se ne stava andando, e io dicevo sempre una frase in quell'epoca. Il vero milanista se ne va dallo stadio solo quando l'albitro fa... Fischia la fine tre volte. gente che se ne andava, destra-sinistra, io tesissimo eravo 2-2, perché poi aveva finito di pareggiare l'Ajax 2-2, e arrivò sto gol di Pippo, e lì veramente fu un delirio, anche perché poi ci toccava l'Inter in semifinale. È qui che vi voglio. 0-0 all'andata, una partita molto nervosa, tra Milan e Inter. Infatti, sì, a parte qualche azione rilevante, veramente è stata una partita molto tecnica, molto tattica, si vedeva che c'era una tensione di fondo, la prima partita di Champions tra Milan e Inter, nella storia, e quindi finì con un 0-0, senza troppe, diciamo, azioni che potessero dire mamma mia che derby. Però sei giorni dopo ci fu il ritorno. Fu un ritorno caldissimo, caldissimo. Io mi ricordo andai quattro ore prima, io andavo in curva ai tempi, quattro ore prima la curva era già strapiena. Le squadre quando entrarono in campo si vedeva già che comunque, a differenza dell'andata, c'era la voglia di fare gol, da una parte all'altra. Un primo tempo un grande Milan, e a fine primo tempo se ne scese la curva sud, grazie a un'azione che Shevchenko dribblò a Cordoba e mentre cadeva a terra, con il piede destro, anticipò Toldo e mise un gol, l'1-0, che veramente fu un gol impressionante, perché poi era un gol in trasferta, per noi valeva ancora di più. Quindi anche in caso poi del pareggio, che poi venne fatto dall'Inter, da Martins, a quasi dieci minuti dalla fine partita, ristabilì il punteggio 1-1, e dopo che fece le sue pirolette tipiche di Martins, la partita cambiò. L'Inter si incendiò, lo stadio era tutto a favore loro, anche perché si giocava punto ritorno con Inter Milan, quindi gli abbonati, la maggior parte dei tifosi erano tutti loro, e all'ultimo minuto, Callon sbaglia il gol della vita, Abbiati mette un piede e ci salva, e ci manda. In finale a Manchester, fu una notte di festa, che ancora io mi ricordo, un'emozione pazzesca, uscimo dallo stadio veramente increduli, però con due pareggi, andammo poi alla finale di Manchester, alla famosa finale di Manchester, dove anche io l'accero, e con un altro pareggio, e poi rigori, vincemmo la Champions. Lo sbeffeggio più bello, che possa esserci in un tifoso di calcio, qual è? Battere le squadre rivali più acerrime, Inter e Juve, semifinale e finale. E chi se la dimentica quella Champions? Siamo stati veramente grandiosi, un Milan che rimarrà sempre nella storia, ci potranno dare della Serie B, di quello che volete, ma nessuno mai si dimenticarà, e soprattutto anche lì, carta canta, Milan fece fuori Inter e Juve, e vinse la Champions di Manchester. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, like, iscrizione al canale, vi aspetto nel prossimo video, sempre con il mio cuore rosso-nero, Forza Milan, ovunque e comunque, parleremo anche di altri derby prossimamente. Buona domenica a tutti, mi raccomando, non agitatevi troppo, cercate di mantenere la calma, cantate, pitturate, fate quello che volete, in casa chiaramente, e soprattutto, relax, perché anche questa passerà. Ciao!